Al rientro a scuola, studenti e insegnanti di molti comuni hanno dovuto fare i conti con le conseguenze del passaggio di ladri e vandali. È quanto accaduto nei paesi etnei di Sant'Agata Li Battiati e Tre Mestieri, dove è stato rubato diverso materiale didattico e sono stati compiuti atti vandalici. Episodi analoghi anche a Santa Maria di Ligoddia, dove i carabinieri hanno arrestato un 19enne in fuga con l'area furtiva della scuola Don Bosco. La questione è stata valutata anche dal COISP, che invita i cittadini a denunciare tutti i furti affinché vengano migliorati i controlli sul territorio.